Ragazzole e ragazzole buongiorno, un buon pomeriggio anzi visto l'orario più che buongiorno io spero che voi siate tutti bene, è un video un po' particolare questo di solito quando faccio dei gruppi di lettura è difficile che io presenti il gruppo di lettura tramite un video di solito i video li faccio dopo per quanto riguarda questa saga che mi piacerebbe tantissimo leggere con voi adesso poi vi spiego con calma, esiste già un video che ve la presenta in generale lo dico soprattutto a quelli che magari sono nuovi iscritti, che ultimamente siete tantissimi esiste un video che magari vi metto qua in alto in cui potete appunto informarmi meglio per tutto ciò che riguarda appunto la storia di questa lunghissima serie di romanzi con protagonista Angelica di Sansé di Monloup, scritta da Anne e Serge Goulon è una saga che adesso io non vi sto a raccontare, appunto perché ne parlavo già in quel video e è da tantissimo in realtà che mi piacerebbe proporvela per un gruppo di lettura nel bene e nel male non è facilissimo parlarne, per cui forse vedrete un po' di tagli in questa prima parte del video perché non è proprio semplicissimo spiegarvi il motivo del perché ho deciso di fare questo gruppo di lettura è un'idea che mi è stata data in realtà da Marisa che è una ragazza che mi segue e a cui mando un abbraccio perché è sempre gentilissima e dolcissima e mi ha proposto di fare questo di aprire questo gruppo di lettura per leggere questi romanzi io alla saga di Angelica sono molto legata è il primo romanzo di cui ho parlato in quella serie che appunto sono i romanzi della nonna quella serie non si chiama i romanzi della nonna solo perché sono romanzi che hanno letto le nostre nonne ma perché sono legati anche a mia nonna in particolare perché la saga di Angelica e tutti i romanzi della saga di Angelica che io ho erano, niente a dire sono, ma erano suoi per cui è successo che Marisa mi ha scritto sotto a una foto che ho messo qualche giorno fa potrebbe essere un bel modo per ricordarla leggere tutti insieme io per adesso vi propongo il primo ovviamente il romanzo della saga di Angelica ora si è posto questo grosso problema per quanto riguarda la saga di Angelica che esistono tante versioni dei romanzi e è un po' complicato di stricarsi in mezzo a tutte queste edizioni non sono semplici da trovare perché l'ultima ristampata risale secondo me al 2005 per cui non è molto semplice oltretutto la Thea 2 che l'aveva stampata ma dopo ne parliamo che è l'ultima casa editrice che si era presa in pancia tutta questa serie non l'ha mai terminata mancano gli ultimi tre romanzi per cui capisco che non sia semplicissimo ora veniamo un attimino a cercare di raccogliere quali sono le varie edizioni e poi vi spiego come funzionerà il gruppo di lettura e se avrete voglia di farne parte io sarei molto contenta e sono sicura che anche c'è un'altra persona che sarebbe molto contenta di sapere che un po' di persone giovani ecco sicuramente non della sua età adesso stanno leggendo Angelica perché mia nonna era veramente molto legata a questa saga e quando le era successo finalmente di riuscire ad andare in Francia e tutte le volte che glielo chiedevo di raccontarmelo proprio le brillavano gli occhi perché era strafelice di aver visto tutti quei posti che erano appunto legati alla sua Angelica partiamo prima di tutto da come funziona io adesso mi sono presa un po' di appunti è tutta la questione editoriale di Angelica in originale sono 13 volumi ok se andate a beccare la vecchia pubblicazione in originale in francese se no la stavano anche ripubblicando di recente perché l'autrice Anne che era perché il marito era già morto aveva deciso di riscrivere alcune parti e soprattutto di riinserire alcune parti che erano state tagliate senza suo permesso dall'editore all'epoca della pubblicazione negli anni 50 per cui andiamo indietro parecchio il problema è che delle nuove edizioni esistono solo i primi sei romanzi e devono essere molti ma molti ma molti di più perché li aveva tutti rivisti per cui secondo me andavamo attorno alla ventina cioè eravamo proprio appena all'inizio i primi sei e purtroppo Golan poi è morta per cui non se ne è fatto più nulla in Italia come vi dicevo li trovate tra i 15 e i 21 volumi dipende da quale edizione ora se voi le volete tutti della stessa identica edizione per cui non volete fare il mix di edizioni l'unica casa editrice che li ha stampati dal primo all'ultimo è la Vallardi per intenderci vi faccio vedere come sono fatti i Vallardi sono questi con Michelle Mercier che è l'attrice che faceva Angelica nei film degli anni 60 cinque film hanno fatto di tutta la saga ok questa qui è l'edizione Vallardi dell'edizione Vallardi esistono tutta quanta la saga cosa vuol dire che voi potete iniziarla della Garzanti potete iniziarla della T2 però gli ultimi volumi li avrete necessariamente della Vallardi perché non esistono di altre edizioni ok la Vallardi li ha pubblicati tra il 1975 e il 1987 e sono 15 volumi in tutto ok se riuscite a trovarli di questa edizione sono 15 volumi e questa è la Vallardi ora chiuso il discorso Vallardi che è appunto l'unica casa editrice vi ripeto che li ha pubblicati tutti quanti e per cui gli ultimi volumi li potete avere solo in questa edizione perché non esistono di altre edizioni cosa è successo cioè perché è così travagliata la questione dei romanzi di Angelica allora la prima casa editrice che se li è presi da pubblicare è stata la Garzanti quelli della Garzanti sono secondo me quelli che insieme a un'altra edizione sono quelli un po' più semplici da trovare sono questi tanto per capirsi sono quelli con la costa marrone ora esiste sia questa edizione formato slim ma esiste anche questa edizione che voi direte ma sono identici no al di là del fatto che la copertina è leggermente diversa però al di là di quello questo qui grosso contiene due volumi ok contiene il primo che è Angelica la Marchese degli Angeli e contiene il secondo che leggo perché non me lo ricordo si chiama il giustiziato di Notre Dame ok quello che io adesso volevo leggere con voi era soltanto la Marchese degli Angeli poi eventualmente se voi avete i volumi questi qua doppi vi dico io dov'è che finisce la Marchese degli Angeli è buona ok però state attenti perché perché la Garzanti li ha pubblicati in diverse edizioni cioè quelle slim che contengono un romanzo per volta e in queste qua che sono quelle doppie qual è la pubblicazione giusta francese in teoria è questa ok cioè questa qua doppia perché questa qui invece sono i volumi sdoppiati va bene e non sono i volumi francesi i volumi francesi essendo 13 chiaramente non sono così tanti come in italiano ecco io ne ho 21 di libri per farvi capire perché io ho tutti questi qua sdoppiati ok non ho l'edizione completa di completo ho soltanto questo e un altro ok che sono doppioni ovviamente per cui avete tutto un gruppo di accorpati che sono fino al volume 6 va bene poi dal volume 7 in giù invece anche le edizioni Garzanti ok sono il volume unico quello giusto ok non accorpa più due romanzi in uno che macello voi direte il problema è che la Garzanti non li ha stampati tutti la Garzanti si è fermato al libro 10 dall'11 in giù è Ballardi va bene la Garzanti ha fatto varie stampe varie edizioni di Angelica una sono queste qua che vi ho fatto vedere io cioè la Slim ok e quella invece unita poi ad un certo punto ha deciso di ristamparli un'altra volta e l'ha stampata in questa edizione ok che si chiama Nuovi Mondi poi l'ha fatta in un'altra edizione ancora che si chiama Romanzi e realtà è sempre Garzanti solo che sono praticamente tante collane ok della casa editrice Garzanti voi direte che casino concordo con voi sta di fatto che la Garzanti cioè le ha sempre repubblicati ma sempre quelli cioè una certa però si è sempre fermato per cui magari di Romanzi e realtà ok che è questa ne trovate alcuni ma non tutti cioè voi fate conto che la Garzanti ce l'ha avuto in pancia per un sacco di anni per cui le ha stampate in varie diverse edizioni ve ne faccio vedere un'altra che è questa cioè hai capito cioè la Garzanti ha fatto un po' mix ok ad una certa la Vallardi ha detto faccio io non mi chiedete la Vallardi sotto quale case editrice più grossa sia salve fatto che la Vallardi le ha ristampate tutti quanti tutti identici ok per cui esistono i 3d no 15 volumi tutti fatti così ok che è la Vallardi fammo capisse quelli che si trovano più semplicemente sono questi che sono i Vallardi questi che sono i Garzanti che però una certa vi dovete bloccare per forza e dovete andare avanti con i Vallardi e poi esiste anche un'altra edizione che si trova io ho visto molto spesso che è l'edizione Euroclub qual è l'edizione Euroclub? quella in rigida ok con dei colori molto forti molto accesi magari vi metto una foto qua e con in copertina alcune scene dei film ok dei film francesi il problema cos'è? che le edizioni Euroclub sono indubbiamente molto belle molto carine con tutto il cartonato e quant'altro però si fermano sono soltanto 5 ok dopo i primi 5 dovete andare avanti con un'altra di questi quali? con la Vallardi? no potete andare avanti anche con la Garzanti volendo perché le edizioni Euroclub si fermano al romanzo e adesso ve lo dico quale numero si ferma con il romanzo number 8 di questi Slim ok per intenderci è Angelica schiava d'Oriente l'ultimo dell'Euroclub ovvero l'Euroclub cosa ha fatto? ha stampato solo i romanzi che coprono tutti i 5 film stop ok per cui tutta la parte di Angelica che dall'Oriente dopo va in America non vi dico per qual motivo come, quando e con chi però vi dico solo che ad una certa va in America si sto parlando con Diana Gavaldon che mi ha scoppiazzato Angelica da tutte le parti non c'è tutta quella parte lì ok si ferma esattamente dove si fermano i film seppur nei romanzi c'è più ciccia rispetto ai film succedono più cose che poi nei film hanno tagliato ok poi c'è stata la Thea 2 la Thea 2 ha fatto un lavoro bellissimo la Thea 2 ha stampato 18 romanzi su 21 poi gli ultimi 3 si è fermata per cui non esistono cioè non si può più andare avanti momentaneamente la Thea 2 ha perso i diritti ok per cui non c'è speranza che li ristampi la Thea 2 che li ributti fuori che che finisca di pubblicare gli altri ok al di là che sono fuori catalogo i 18 i 18 romanzi che aveva già stampato non li trovate ecco a meno che non non andate a beccarli su dei mercatini ok per cui ricapitolando tutto quanto se li volete uguali vallardi se volete gli ultimi necessariamente vallardi non è che potete andare molto in là l'unica cosa che io vi consiglio di fare a sto punto è fare un po' dei mix dei mix di romanzi ok quindi dove li trovo i romanzi di Angelica in realtà è molto più semplice di quello che sembra perché sì è vero sono fuori catalogo però mi hanno detto e io ho dato anche un'occhiata ma soprattutto fonti di prima mano che li trovate su comprovendolibri.it ha dei prezzi abbastanza stracciati cioè anche a 1, 2, 3, 4 euro nelle librerie dell'usato qualcuno ho visto che ha mandato anche delle email proprio per chiedere informazioni se le avevano per cui io vi consiglio se avete nella vostra città delle librerie dell'usato di provare a contattarle perché sicuramente li hanno perché sono libri da svuota soffitta questo ebay ebay li ha ve li vende in blocco ebay però per cui ecco non vi aspettate dei prezzi proprio da mercatino tipo a 1 euro 2 euro 10 euro per che ne so 10 volumi cioè magari aspettatevi un po' di più ecco quello dipende voi anche quanto volete spendere amazon marketplace l'unico volume su cui io posso immaginare che ci sia da spendere abbastanza ma perché esiste soltanto in ballardi che è quello un po' il casino è o sono adesso non mi ricordo bene ma comunque sono proprio gli ultimissimi gli ultimissimi sono quelli purtroppo più costosi perché sono praticamente introvabili perché esiste soltanto ballardi mentre siccome degli altri c'è un po' di varietà euro club garzanti ballardi e quant'altro sono un po' meno costosi e come vi dicevo anche un po' meno difficili da reperire però vi assicuro che se spulciate un attimo se smanettate ce la fate a trovarli non è così complicato come sembra ora detto ciò io qua sotto vi lascio anche la la mia mail a parte che c'è sempre in tutti i video nel linfo ciccino c'è sempre la mia mail comunque io ve lo dico sotto c'è la mia mail perché magari alcuni di voi non hanno voglia di recuperarli costano dei soldi in questo momento non si sentono di spendere dei soldi non sono sicuri che gli possa piacere o meno io ho gli ebook per cui basta che mi mandate una mail e io vi mando gli ebook tranquilli penso sia negli pub adesso non mi ricordo comunque ho gli ebook di penso tutti quanti se non mi ricordo male e sono in italiano io adesso ricontrollerò per bene ma penso di aver trovato due versioni diverse di quei di Angelica per cui mi iscrivete in privato mi iscrivete tramite via mail e io ve li mando non mi guardare così Sherlock amore mio sempre qui sotto io vi metto anche il link del gruppo telegram lo so noi di solito il gruppo di lettura lo facevamo su facebook nel salotto di lettura però avevo notato ultimamente che in quel salotto lì si faceva un po' fatica a partecipare per cui già all'epoca l'avevo detto che volevo cercare un nuovo metodo per fare il gruppo di lettura e voglio provare su telegram perché ho visto che tante persone l'hanno fatto e non lo so ho detto proviamo al massimo funziona e poi ritorniamo al salotto di lettura su facebook fare un mix tra l'altro di magari telegram diretta non lo so mi piaceva questa idea per provare così per curiosità vediamo un po' come va poi se appunto non va facciamo che cambiamo e torniamo ai nostri vecchi fasti per qualsiasi altra domanda mi potete scrivere qua sotto mi potete mandare una mail mi potete scrivere su instagram perché è lì un po' che stiamo cicciando e stiamo cercando un po' di raccogliere le idee non vi preoccupate perché c'è tempo io non ho ancora dato delle date per iniziare il salotto eventualmente appunto potete chiedere qua sotto o su telegram io penso non lo so un mesetto da oggi da quando vero pubblicato questo video più o meno vediamo ecco vediamo un po' poi ne discuteremo meglio appunto su quel gruppo lì e decideremo niente fatemi sapere se questa idea vi piace se vi va di partecipare come vi ho detto qua sotto vi lascio tutti i contatti se avete altre domande per quanto riguarda le edizioni chiedetemi e basta io vi mando un abbraccio ci leggiamo molto presto e spero che sarete parte farete parte di questa avventura sappiate che poi facciamo un viaggio premio andiamo tutti in Francia non è vero anche se sarebbe molto bello andare a visitare i ruoghi di Angelica fare il tour Angelica in Francia sarebbe una figata pazzesca sì decisamente ragazzi troppo bello e facciamo anche i casting sul gruppo di Telegram facciamo anche tutti i casting sapete che io sono molto fan dei casting dei libri per cui casting a manetta anche se io ho già in mente chi deve fare Gioffre di Perak però nel senso ce la dobbiamo un po' giocare questa cosa ho diritto io comunque di precedenza sulla scelta di Gioffre di Perak accetto proposte io le accetto poi poi alla fine decidiamo facciamo i sondagioni e vi risaluto e a presto vi saluto noi da me e da nonna ovviamente perché salotto per lei e per cui anche da nonna